eccolo qui! Vai vai vai! No apri te! Io non mangio sushi! Come no? Io non mangio pesce! Ma stai scherzando? No! Vai vai! Ma no! 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 Non lo mangio io benissimo! Dai! Ma no! Lo mangio da solo Luca! E lo mangiano anche loro! Ce ne sono due di oratta, due di gambero, due di salmone... Oh no! Ragazzi c'è il sushi! Fate su le canne! Ma dai non puoi non mangiarlo! No davvero Rudy! no si è mollato va bene così va bene va bene così adesso è il momento del sushi loris se vuoi il sushi ma quello vero è sushi mi piace il sushi ha portato lo luca grazie dai loris grazie a loris e a luca aspetta che è il posto che è qui grazie ancora uno vai grande loris e vai luca grazie a tutti la gente fa il luca grande luca grazie di tutto grazie a te e grazie dai grande robin bellissimo belicca bambino fermo così così ci esce fuori poi la foto metti troppo più in avanti la foto vai bellissimo 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 è tutta inchiodata mi ha fatto fare la vita da bestia adesso vediamo il mostro di luca dai dai così fermo bellissimo che spettacolo grande ragazzi bellissimo nessuno è proprio bellissimo la strage di ma come nascondili dai nascondili spettacolo spettacolo bello 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 adesso lo porto alla mia signora e glielo butto dentro al letto forza miseria sai che grana